Quali foglie è meglio evitare di compostare e quali invece sono ottime per il nostro cumulo di compost? Cari amici ben ritrovati, dopo lo scorso video che vi invito ad andare a vedere su come utilizzare le foglie in orto, giardino e pollaio, oggi andiamo a vedere quali foglie è bene non compostare. Lo spunto per questo video me l'ha dato il commento di uno di voi che mi ha chiesto se si possono compostare normalmente le foglie di castagno. E allora è il caso di vedere insieme quali sono le foglie che è bene non compostare e perché. E innanzitutto partiamo col dire una cosa molto importante, ovvero sia che fare il compost è un po' una forma d'arte, perché per ottenere un ottimo compost bisogna mantenere i rapporti tra alcune sostanze chimiche presenti nei materiali che andremo a compostare entro certi determinati livelli. Per ottenere un buon compost la cosa più importante sono probabilmente i rapporti tra carbonio e azoto. Un buon compost è un compost che ha un rapporto di carbonio ad azoto di 30 a 1, cioè 30 parti di carbonio per una parte di azoto. Cosa succede se questo rapporto non viene rispettato? Se utilizziamo materiale con troppo carbonio quello che accade semplicemente è che la decomposizione avviene molto più lentamente. Ciò che accade invece se mettiamo materiale con troppo azoto è che si vanno a formare esalazioni ammoniacali e si formeranno anche cattivi odori. Inoltre la temperatura all'interno del cumulo di compost potrebbe salire troppo. Per questo va mantenuto un giusto rapporto tra la parte secca ricca in carbonio e la parte umida ricca di azoto. Quando andiamo a parlare delle foglie da inserire nel compost una cosa che dobbiamo vedere è quanto esse siano lignificate, quindi ricche in carbonio, perché ricordatevi che ogni tipologia di foglia ha un rapporto di carbonio-azoto differente. Tra le foglie migliori ci sono quelle che hanno un basso rapporto tra carbonio e azoto, quindi si aremo tra il 30-40 a 1. Vanno meno bene quelle che hanno un rapporto di carbonio-azoto sul 60 a 1. Gli aghi di pino per esempio arrivano a 80 a 1, per cui la loro decomposizione è estremamente lenta. Inoltre c'è un altro pericolo, ovvero sia quello di introdurre nel compost delle sostanze che potrebbero essere tossiche. Sì, perché alcune piante hanno al loro interno, all'interno delle foglie, delle sostanze potenzialmente tossiche per gli animali o per le piante e di conseguenza potrebbero trasmettere tale caratteristica proprio al compost che andiamo a fare. E' bene quindi cercare di evitare quelle specie che hanno delle sostanze tossiche particolarmente rilevanti. Prima di continuare vi ricordo che se vi piacciono gli argomenti che tratto potete lasciare un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. In questo modo mi aiuterete a far crescere il canale e anche a portare nuovi contenuti con regolarità. Nello scorso video vi ho fatto vedere tra le foglie che ho utilizzato quelle della roverella. La roverella è una quercia. Le querce tendono ad avere un rapporto carbonio-azoto piuttosto alto. Sono molto ricche, in carbonio sono molto lignificate di solito le foglie delle querce. Quelle di roverella tendono ad essere un po' più fragili e un po' più veloci a decomporsi. La stessa cosa vale per quelle del faggio. Sono abbastanza lignificate ma si può ottenere anche da queste un buon compost. Anche perché all'interno della pila del compost molto spesso vanno ad agire insetti decompositori. Tra questi le larve dei coleotteri cetonini od orictini. Quindi le larve delle cetonie e le larve degli scaraberi inoceronte. Queste larve apprezzano moltissimo le foglie di quercia e anche le foglie del faggio. Per cui ci aiuteranno a smaltire più rapidamente queste foglie che altrimenti tenderebbero a decomporsi più lentamente. Invece vanno tenute da conto le foglie di quelle varietà di quercia come per esempio il leccio oppure anche il sughero che sono querce sempre verdi. Quelle foglie sono particolarmente coriacee e ci impiegano molto molto più tempo per essere decomposte. Proprio per questo queste tipologie di foglie sono ottime invece come pacciamatura. Perché permettono di pacciamare il terreno e decomponendosi lentamente rilasciano lentamente le loro sostanze nutritive nel terreno. E nel contempo impediscono per un tempo maggiore alle erbacce di crescere attraverso di esse. Queste foglie così grandi sono le foglie del platano. Le foglie di platano sono un po' troppo coriacee, un po' troppo grandi per essere compostate normalmente. Come possiamo utilizzarle? Prima di compostarle andremo a romperle, a frantumarle in maniera tale da accelerare la decomposizione. In secondo luogo possiamo bagnare le foglie prima di aggiungere uno stato successivo. In questo modo la decomposizione di queste foglie verrà accelerata almeno un po'. Ci sono altre piante che hanno foglie particolarmente coriacee. Pensiamo ad esempio all'alloro, alla magnoria, all'auroceraso. Tutte queste foglie, come anche il platano che abbiamo appena visto, possono essere inserite nel cumulo di compost a patto prima di averle rotte e spezzate. Anche in questo caso, come per le querce, possiamo utilizzare molto bene questa tipologia di fogliame proprio per avere una buona pacciamatura. Perché ci garantirà lunghi tempi di permanenza sul terreno e quindi una minore manutenzione nel corso del tempo. Anche le foglie di olivo, essendo particolarmente coriacee, hanno un elevato rapporto carbonio-azoto. Di conseguenza il loro utilizzo ottimale non è tanto nella compostiera, ma quanto nella preparazione di pacciamatura resistente e durabile nel tempo. Anche le foglie del castagno tendono ad avere un alto rapporto tra carbonio e azoto. Di conseguenza tendono a impiegare molto più tempo per decomporsi. Anche qui, come per il platano, andiamo a spezzarle prima di inserirle nella compostiera. Ed in questa maniera riusciremo ad accelerare il processo di decomposizione. Inoltre, in questi casi che abbiamo appena citato, di piante con foglie particolarmente ricche in carbonio piuttosto che in azoto, ricordiamoci che quando andiamo a fare la pila del compost, cercheremo di spostare di più la bilancia verso l'azoto, semplicemente inserendo magari più pollina o più letame o più sfalcio d'erba, cioè aumentando la quantità di materiale ricco in azoto. In situazioni come questa, ovvero sia parchi o giardini con grandi quantità di foglie coriacee, come in questo caso il platano, una soluzione potrebbe essere molto più semplicemente quella di utilizzare una macchina tagliaerba che possa sminuzzare le foglie e renderle quindi adatte o al compostaggio oppure alla macerazione in loco, in maniera tale da garantire sempre anche al prato la giusta quantità di nutrienti. Una pianta che invece è proprio bene evitare di utilizzare nel compost, ma anche come pacciamatura per altre piante, è questa, la noce. Queste sono foglie di Juglands regia, ovvero sia del noce comune, e il noce comune è una pianta che ha una caratteristica particolare. All'interno delle foglie del noce è infatti presente lo juglone. Lo juglone è una sostanza che tende a inibire i processi enzimatici di altre piante. Infatti è molto difficile cercare di far crescere cespugli o alberelli al di sotto di un albero grande di noci, proprio perché lo juglone tende ad avere un'azione quasi erbicida, per cui le foglie del noce non andranno inserite nella compostiera. Cercheremo di evitarlo. Al massimo andremo a utilizzarle come pacciamatura vivente per le piante di noce stesse. Un'altra foglia che non andrebbe inserita all'interno della compostiera, ma per un altro motivo, è questa. Queste, per quanto oramai siano distrutte, sono foglie di ipocastano. L'ipocastano produce esculina. L'esculina è una sostanza tossica e sembra che questa sostanza possa trasferirsi anche al compost prodotto con le foglie di ipocastano, se queste sono in grandi quantità. Per cui, per evitare rischi, meglio evitare semplicemente di utilizzare le foglie dell'ipocastano all'interno della compostiera. Anche le foglie dell'oleandro sono tossiche. Infatti contengono molte sostanze velenose, come per esempio l'oleandrina. Ebbene, possiamo utilizzarle queste all'interno della nostra compostiera? Ebbene, sì. E lo possiamo fare anche perché degli studiosi americani hanno voluto stabilire se effettivamente l'oleandrina e altre sostanze tossiche dell'oleandro permanessero nel compost. Questo perché? Perché in California ci sono tantissimi oleandri e tantissime persone usano le foglie o i rami sottili dell'oleandro per fare il compost. e c'era il timore che le sostanze tossiche potessero trasferirsi sistematicamente al compost e quindi creare dei problemi per la salute delle persone. Hanno scoperto che la quantità di oleandrina presente nelle foglie tende a diminuire nel tempo in maniera sistematica quando queste sono compostate. Per cui, in teoria, basta compostare le foglie o i rami cipati del nostro oleandro per circa un anno per venire meno le quantità di sostanze tossiche in esso presenti. Insomma, sia che le si usi per fare il compost o come pacciamatura, le foglie rimangono comunque un elemento estremamente prezioso da utilizzare nel miglior modo possibile. Abbiamo visto quindi che ci sono delle foglie che è meglio evitare di utilizzare nel compost ma che possono essere utilizzate in altro modo. Non dimentichiamoci quindi di fare incetta di foglie in questa stagione finché ancora ne abbiamo la possibilità. Bene amici, anche per stavolta è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi lascio in descrizione i link ad alcuni libri che potrete trovare interessanti su questo argomento. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao!